su tanara c'è poco da dire che già non si veda arriva dalla perrera a quattro anni e la paura è una sua compagna però tanara ci ha dimostrato di avere tanta voglia di uscire uscire come carattere uscire dalla sua gabbia e trovare una nuova famiglia dalla gabbia cisco d'insola si vede che curiosa interagisce con gli altri cani interagisce con l'ambiente la paura non l'ha fatta rinchiudere in se stessa vuole uscire ha bisogno di una famiglia che sappia aspettare i suoi tempi e sappia aiutarla non la carezzo perché sennò prenderebbe paura tanara però racchiude tanta dolcezza a noi fa tanta dolcezza e vorremmo tanto aiutarla tanara cerca una famiglia famiglia amorina vediamo l'amizzaglio si fa portare veramente vediamo piccola di di brava brava